Respira, respira piano. I tuoi occhi presto si abitueranno al buio. Non aver paura. Non aver paura. I tuoi occhi presto si abitueranno al buio. Noi ad oggi iniziamo a chiudere la discederia. Uno, perché vogliamo il pieno controllo del sottosuolo. Due, perché ci stiamo stancando. Questa avvertenza non può durare un mese. Sognavamo il mare. Volevamo essere i marinai. Ma apparteniamo alla terra. All'oscurità. Siamo gli ultimi. E io sono sola. È bene che tu non sia qui a guardare. Tutto questo che scompare. Ciao. 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 Grazie a tutti